Era lontano un po' dalla mondanità. Beh, era molto lontano. Per dividere la quotidianità con lei dove significava? Significava parlare quotidiano, era molto curiosa, era molto curiosa. Io ho diventato un'esperienza molto superiore, anche della propria vita. Quindi le chiedeva sempre i consigli? No, consigli. Era molto più. Grazie. Grazie. Mi spiace che l'ultimo anno non siamo mai incontrati. Ci avevamo chiesto di fare una fiction proprio due mesi fa insieme per riunirci. Abbiamo fatto quattro tivi insieme. Un giro in più, un giro in più. Un giro in più, un giro in più. 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 Grazie a tutti.